amici sportivi il più cordiale buon pomeriggio dal comunale di castelbaldo dove oggi si affrontano castelbaldo masi e ponte cor per il campionato di prima categoria girone d ai ragazzi di mister albieri basta un solo punto per raggiungere il traguardo della promozione spettacolo in campo e fuori tutto è pronto vi lascio alle immagini del match grazie 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 grazie